Il decreto del Presidente del Consiglio è stato firmato ieri, entra in vigore esattamente oggi e contiene alcuni elementi di novità, in parte anticipati la scorsa settimana dal decreto legge, il 125, che come sappiamo tutti, impone l'uso della mascherina anche all'aperto. E quindi su questo primo punto ho chiesto ai vertici delle forze di polizia, questore e comandanti provinciali, di farmi un resoconto. Devo dire che la prima indicazione è confortante, nel senso che si registra a distanza di una settimana circa il fatto, la circostanza, dell'uso, direi, diffuso della mascherina. Quindi vuol dire che i ferraresi si stanno, come dire, comportando bene. Occorre fare un salto di qualità, perché sa che i contagi, la curva esponenziale è in crescita. In questo senso il decreto di ieri, il decreto che entra in vigore oggi, contiene delle misure restrittive, che non vogliono andare nella direzione della chiusura, della lockdown, ma che appunto hanno questa funzione, questo motivo di indirizzare, anzitutto, i cittadini ad un ulteriore rafforzamento del senso di responsabilità. Noi sappiamo che da oggi non sarà più possibile, come dire, oltre le 21, permanere in piedi all'esterno, rispetto ai locali, pubblici, bar, ristoranti, pub. Alle 24 è prevista la chiusura anche, perché nella fascia temporale, dalle 21 alle 24, la permanenza è consentita, ma soltanto con sedute al tavolo. Rivolgo questo sentito appello a tutti quanti, alla comunità, alla cittadinanza, ai ragazzi, ma ripeto, non solo e non necessariamente ai ragazzi, di essere molto attenti e rispettosi, perché soltanto in questo modo potremo contenere anche i tempi di questo disagio che viene dall'applicazione di queste misure restrittive.